No, volevo chiedere a fare due cose, se è felice e che cos'è per lui la felicità? Per me è la felicità. Se non è felice lui, guarda che sorriso, Calvi inquadralo, guarda, mo' di che sei triste, scusa. Da resti 10 cm di altezza per tutti i tuoi Rolex? C'ha le ragazze, è famoso e adesso pure è triste. Nano coi Rolex. Sì, perché io sono contro l'ipocrisia. Cioè allora, sfatiamo sta cosa. Non sentiamo tutti, ragazzi. Allora, attenzione, io ho detto che i soldi, no, io ho detto che, vabbè, ho detto quello che mi hanno detto, questo, il mio concetto è, io odio l'ipocrisia. Se io oggi dovessi scegliere di non avere neanche un euro per avere 10 kg in meno, con i soldi che ho, vado da un bravo dietologo, mi ci impegno. Sai quella è la tua fortuna, che senti lì gente. Sicuramente non sei stupido. No, dai ringrazio. No, è vero. Luca, Luca. Cioè io sono contro l'ipocrisia. Giuseppe, dico, io sto bene, posso sentire Sara. Brilla, brilla, brilla. Stasera è sconvolta, però voglio capire perché. Di Giuseppe. No, ti dico una cosa, improvvisamente, e non lo dico, ragazzi, non interpretatemi male, non lo dico a discapito contro quei ragazzi che sono là, contro cui naturalmente non ho nulla, ho semplicemente ribattuto. E però gli dà una bastonata. No, no, ve lo dico, tutta l'attenzione nostra, tutta l'attenzione tua, Luca, tutta l'attenzione di Oliviero, e in parte anche l'attenzione di Luisella, si è concentrata, perché basta, non ne possiamo più di sentire storia di pregare in televisione, non ne possiamo più. E tutta la nostra attenzione si è concentrata su Farid, sul personaggio Farid. E i ragazzi, i due ragazzi, sono improvvisamente scomparsi dalla circolazione, è così. È colpa vostra, è colpa vostra. Sara, tu devi parlare anche per un minuto, anche per due, anche per 30 secondi, ma devi bucare adesso, cioè devi dimostrare a Giuseppe che ha sbagliato. No, non c'è questo ricato. No, non è un ricato, io penso che tu abbia delle cose a dire. Dica, deve convincere Cruciani. Se no sembra che sia tutto così. Il Carriatto non interessa la televisione, lui interessa la televisione, ha ragione Cruciani. Ma Scuicani ha detto che interessa te, non ha detto che interessa la televisione, tu eri interessato da lui. No, interessa più Farid, interessa più Farid, è una storia da conoscere, è una storia importante, non ne possiamo più. Tutti i precari che vengono a fare il piagnisteo, non ne possiamo più. Sara, ma perché siamo in una società che purtroppo vede soltanto il lusso, non vede le difficoltà. Sai che quando arriva Poletti e la televisione... Momento, momento, scusa, stiamo in una società che vede solo il lusso e non vede le difficoltà. Non vuole accettare le difficoltà. Ma non è vero, al contrario. No, invece, quella... Ma da una settimana tutti parliamo della storia in cui abbiamo aperto questo racconto, la storia di un ragazzo suicida che ha denunciato la sua condizione. Tu sei qui perché hai scritto una lettera a Mattarella dopo questo fatto. Non è che guardiamo solo il lusso, scusami. Perché la colpa è degli altri? Adesso mi fai fare Oliviero. Perché voi avete dato almeno voce a noi, ma tra virgolette noi precari, e io mi metto in una categoria, i precari, abbiamo avuto voce stasera, adesso, qui, in questa trasmissione. Ma quante trasmissioni danno voce a noi? Ma è da anni che si parla di... No, vabbè, Farid ha fatto un programma televisivo, voglio dire. Farid è la prima intervista che farà. Non è la prima volta che è in uno studio televisivo. Per noi è la prima volta. Non è che se vai in televisione risolvi il problema. Io lo so che non risolve il problema. Io vorrei che le persone capisse del problema. Sì, io sono sconfortata. Che cosa sei? Ma no, vedo questo dibattito in cui loro devono giustificarsi, ma giustificarsi perché? Non dovete giustificarvi. Parliamo di precari perché è morto un ragazzo, si è uccidato. Vorrei che ci fosse solo un minimo di rispetto. Non è che la provocazione debba essere, ogni volta per fare ascolto uno debba provocare. Ma che c'entra il rispetto? Bisogna essere civili, quindi voglio dire, basta. Non so se parli di Cruciani, puoi dire tutte le caratteristiche che vuoi. No, ma anche la provocazione uno è triste e la faccia del rispetto non è infame. O le nostre discussioni con la storia di Michele, non è che ci dobbiamo sentire tutti contriti. Non ti sento, Cruciani. Non mi arrivi, Cruciani. No, ma scusami, Luisella, non capisco di che cosa ci dovremmo vergognare di fronte alla storia di Michele. Non riesco a capire. No, questa cosa che dici tu. Hai detto, adesso parliamo, mi sono stufato di vedersi precari. Siamo partiti da una storia, che è anche una storia di cronaca, ma è di difficoltà. No, io non ho detto questo. Ho detto che è più interessante, paradossalmente, scusami, Luisella, ho detto che è più interessante la storia di Farid, piuttosto che le storie di Precari che sentiamo da anni. Un po' di rispetto, mi sembra che manchi rispetto, mi spiace. I due ragazzi che sono esperti di televisione, preferisco sentire una storia nuova, piuttosto che una storia vecchia. Che vanno giustificarsi con altre persone. Allora, abbiamo fatto questo dibattito. Dopo le difficoltà che hanno, mi spiace il Paese.